Quali sono le carte migliori da ottenere in OP03? Che vantaggio apporteranno ai vari archetipi che si svilupperanno in questo terzo atto del TCG targato Bandai? E quale tra queste avrà un effetto adatto ad ogni deck, anche tenendo conto delle vecchie guardie? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. La data per il pre-release di Pillars si sta avvicinando e con essa anche l'arrivo di nuove carte che rivoluzioneranno il gioco. Infatti i nuovi tester hanno iniziato a provare i nuovi archetipi che vedranno Katakuri e Big Mom fare la loro comparsa sui campi di battaglia, con Zoro, Barba e Luci, nuovo leader nero, che assieme a Nami, rappresentante in entrata del blu, andranno a dare il bentornato o benvenuto a nuovi deck che sono certo appassioneranno numerosi espiranti re dei pirati. Ma un mazzo trova la sua potenza nei singoli che, messi assieme, vanno a creare una sinergia più o meno potente e nel video di oggi andremo a prendere in considerazione quelle che, secondo il mio personale parere, saranno le 10 carte più interessanti nello 0-3 che rappresenteranno quegli elementi must-have da possedere ad ogni costo. Prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi. Per voi è solamente un click, per il canale invece è molto importante. In questo modo crescendo si riusciranno a portare contenuti sempre più interessanti e ricercati. In più, non dimenticatevi di seguirmi anche su Instagram e la pagina Facebook, dove pubblicherò aggiornamenti riguardanti le varie uscite dei video e molto altro ancora. Troverete i link in descrizione. Grazie ancora in anticipo, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quale sarà la top 10 delle carte da avere assolutamente in OP03. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo con Marco, che con i suoi 6.000 punti di forza a costo 5 durante il vostro turno, quando verrà messo in gioco, andrà a mettere KO un character rivale con potenza pari a 3.000 o inferiore, con la presenza aggiuntiva di un effetto Onkeyo che lo vedrà tornare in campo in stato di esaurito se scarterete un evento dalla mano. La Fenice sarà di sicuro un elemento più che presente nel mazzo di Barba Bianca, andando ad affiancare la sua controparte blocker nei deck con prevalenza di tratto Wide Bird P-Rate. Non sarà comunque da escludere il suo slot dedicato negli Zoro Leader, dove potrà fare la sua comparsa nelle liste più esotiche. L'evento Fire Fist a costo 3 vi permetterà nella fase principale di distruggere un character con forza pari a 5.000 o inferiore ed uno con potenza pari a 4.000 o inferiore rivale se scarterete una carta Event dalla mano. La presenza di un trigger inoltre vi consentirà di innescare la prima parte dell'effetto principale senza però dover scartare carte. Davvero molto forte dato che in questo caso si avrà un degno successore dell'oramai famosissimo Jet Pistol che, se giocato assieme al pugno, darà martirio alle linee di combattimento rivali. Kaya con i suoi 0 punti di forza a costo 1 potrà rappresentare una scelta azzardata, ma in previsione dell'arrivo del 1000 di Nami il suo effetto potrà tornare più che utile. Infatti non appena verrà impiegata in campo vi farà pescare due carte dalla cima del deck per poi farvene scartare altrettante dalla mano. In più con i suoi 2000 di counter potrà tornare utile in più occasioni durante un match, sia per velocizzare la strategia di gioco del deck o per difendere il leader da assalti rivali. Sanji Spilaf a costo 3 sarà un evento che nella vostra fase principale vi permetterà di pescare due carte dal deck con effetto trigger annesso che attiverà l'abilità principale. E così anche One Piece avrà la sua anfora dell'abilità, e parlando di carte che si adatteranno a qualsiasi mazzo dalla 0-3 in poi, dando uno sguardo anche ai set passati, Pilaf incarnerà alla perfezione questo concetto, utilissima a qualsiasi deck che coinvolgerà il blu nelle proprie dinamiche di gioco. Kaku a costo 5 e 6000 punti di forza rappresenterà a tutti gli effetti un'evoluzione di Kobi. Infatti una volta che verrà giocato vi consentirà di riportare in fondo al deck dalla pila degli scarti due carte con tratto CP posizionandole nell'ordine che vorrete, per poi andare a mettere KO un character avversario con costo pari a 3 o inferiore. Con la giraffa quindi non ci saranno privazioni ma solo vantaggi, una validissima arma da impiegare magari proprio in combinazione con Kobi stesso. In che modo? Giocando Kobi potrete scartare una carta con tratto CP per innescarne l'effetto, per poi magari nella vostra fase di counter utilizzarne altre per difendervi dagli assalti rivali. A quel punto impiegando Kaku potrete reintegrare le carte che avrete scartato barra utilizzato nei turni precedenti per nullificare il danno proveniente da Kobi sfruttando in più al 100% l'effetto del membro dell'allora CP9. Lucci con 7.000 punti di potenza a costo 6 quando entrerà in gioco riproporrà allo stesso modo di Kaku la prima parte del suo effetto, con l'unica differenza che nel caso del leader dell'organizzazione segreta manovrata dal governo mondiale, esso guadagnerà un pericolosissimo rush. Character di grande rilievo soprattutto perché fornirà un fattore velocità non indifferente al nero, cosa che prima della sua comparsa non era presente tra le fila delle tonalità che ha visto la marina aprire le danze in OP02. Fugitora o Isso durante il vostro turno assegnandogli un singolo don andrà a ridurre di ben 3 unità il valore di costo di ogni personaggio avversario. In più quando verrà utilizzato costringerete chi vi giocherà contro a scartare due carte se quest'ultimo ne possiederà 6 o più in mano. Con 9.000 punti di forza a costo 8 inoltre di certo rappresenterà una presenza davvero molto importante sul campo di battaglia da sferrare contro le difese nemiche turno dopo turno. Charlotte Katakuri a costo 8 con 8.000 punti potenza quando metterà piede in campo andrà a posizionare un caratter avversario con costo pari a 8 o inferiore in fondo o sulla cima della pila delle vite rivali. Katakuri sarà uno dei rappresentanti del nuovo colore che arriverà in OP03, ovvero il giallo, e sarà davvero molto indicato per togliersi di torno il buon 90% dei personaggi presenti in tutto il TCG, senza togliere il fatto che assieme ai prossimi due elementi che sto per mostrarvi creerà davvero scompiglio tra le difese nemiche. Charlotte però spero, quando verrà messo KO, vi consentirà di visionare le prime tre carte dalla cima del mazzo, rivelandone una tra esse con tratto Big Man Pirate da aggiungere alla mano, riposizionando le restanti due in fondo al deck nell'ordine che vorrete. Ma la cosa che più dovrà interessarvi saranno i suoi valori di costo e di forza, 3 per 5.000. Ciò gli permetterà di minacciare le vite rivali già dalle primissime battute del match e se è vero che non c'è mai fine al peggio, soprattutto se ve lo ritroverete contro, la presenza di un trigger lo farà scendere in campo a condizione che si scarti una singola carta dalla mano, uno degli elementi in termini di resa beneficio migliori di questo set. Infine, arriviamo a Charlotte Lin Lin, che con i suoi 12.000 punti di forza a costo 10, quando farà la sua comparsa sui campi di battaglia, se il leader del mazzo possiederà il tratto Big Man Pirate, andrà a posizionare una carta dalla cima del deck nella parte alta o bassa della vostra pila delle vite, scartandone di seguito una da quella avversaria. Cosa non dire se non devastante in late game, il suo effetto sarà letteralmente troppo, soprattutto se ne giocherete tre, una dopo l'altra, turno dopo turno. E, posso assicurarvelo, mi è capitato di vederlo, nella finale della tredicesima tappa della Weekly Cup. Vi lascerò il link in descrizione. Concludendo, questa lista di 10 elementi che ho stilato rappresenta per me la punta di diamante dell'intero set, menzionando in modo onorevole anche carte come Baghi Rosso, Poli, Kokoro, Luci Viola, Vergo, 3000 Ward, Adio, Lanami Verde, Kurobi, Django, Usopp, Korghi, Sogeking e Tropical Torment, che sì, a loro modo potranno essere incisivi nelle giocate collettive del deck e quant'altro, ma che, parere strettamente personale, non ho trovato irresistibili. Calcolando inoltre che in OP-03 ci saranno capitani che a loro modo cambieranno il volto del meta, almeno un paio di copie, a seconda del leader scelto, dovranno comparire all'interno del deck, in modo da rafforzare le liste veterane che già solcano da OP-01 gli oceani più profondi o sprigionare la potenza di nuove leve più che intenzionate a farsi valere in questo set che si prospetta davvero molto interessante. A tal proposito, non mancate il video di domenica prossima dove tratteremo la top tier dei mazzi che domineranno i sette mari in questo terzo atto del TCG di One Piece. Non perdetevelo! E voi, quale colore giocherete in Pillars of Strength? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.